Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul nostro canale. Oggi ragazzi faremo la parte 5 del box da 80 bustine del calciatore Panini in 2023-2024. Ovviamente siamo alla ricerca dei box. Osimene e Dybala. Sì, e poi se vogliamo ci possiamo aggiungere anche Giroud, però del Milan ci mancano praticamente tutti. E iniziamo! Ok ragazzi, iniziamo a scegliere. Ovviamente come sapete 5 bustine a testa, andiamo a caso. Noi, 1, 2, 3, 4 e 5. Prendo questa qua. Io ho i miei 5 bustine. Inizi come sempre te Dani. Inizio io. Quando inizi te abbiamo sempre fortuna, quindi inizia te. Pronti? Dybala. Subito, così. Ci manco, Simeon, Dybala e Giroud tra i pop. Quindi dai, vediamo un po'. Vialona, Mazzitelli. Sabelli, Genoa. Mandragola, Fiorentina. Usate il cognome. Azidiacos. Cagliari. Codice del lecco. Ovviamente i codici ragazzi ve li diamo tutti. Pro Sesto, pergolettese, aiutatevi a dividere. Pro Vercenico, questa qua. Aiutateci, Pro Sesto, questi due qua non li so. Tra i giocatori del Como. e Catania e Crotone, schierata. Eccola qua. Ok, ora vado io con il mio primo pacchetto di questo video. Allora, Agustin Alvarez del Sassuolo. Dia della Salernitana. Questa c'è il mercato? Grande giocatore, Dia. Poi, la schierata del Cittadella. Tiago Motta. Tiago Motta. Mi sembra che non ce l'abbiamo. Futuro Milan? Poi, Codice della Ferral Pisalò. Poi c'è tre giocatori del Como. Tre giocatori della Cremonese. E tre giocatori della Ternana. Primo giro, voto 5 e mezzo. Abbiamo trovato Dia. Sì, Dia. Tiago Motta, ma questo ce l'abbiamo già. Allora, già che apriamo e c'è il numero del Diavolo, 666, o è una botta o è Fortuna. Via, riportiamo. Viraghi, Fiorentina. Beh, futuro nascente, nostro nascente. Sule, Frosinone. Cominciamo a diventare più... Mazzocchi, Salernitana, ma è Napoli. Sì, ora si è trasferito a Napoli. Isai, Lazio. E' qualche uno. Che bello. Catanzaro, il codice del... Catanzaro. Catanzaro, eccoci qua. Ok. Palermo, tre giocatori. Palermo. San Doria, tre giocatori. Questa ce l'abbiamo già, non ricordo. Bella questa. Lucchese e la Juventus Next Generation, quindi un under 23. Sì, o l'under 21, no. Ah, vedi, è 666, non lo del diavolo. Eh, ce l'ha due, eh. Però dovrebbe essere quello del Milan. 666, il diavolo. Perera, Roberto Perera, dell'Udinese. Poi c'è Monterisi, del Frosinone. Uè, ah, della Juve. Sì, dai. Sì. Poi c'è Brecalo, della Fiorentina. Codice UUU. C'è qualcosa, c'è qualcosa. Sotto c'è qualcuno. C'è qualcuno. Codice. Aspetta, così è forse, no, così, così. Così, palma. Ok. Poi. Bene, bene, bene. Che c'è, che c'è? Mi balanzola. Oh. Nella Fiorentina. Poi stemma delle Empoli. E poi sotto c'è il Perugia e l'Olbia. Le schierate. Bene, bene. Wea, Pereira. Mi zola. E sono scelte. Ve lo sento. Abbiamo. Aiutami. Salianitana. Salianitana. Lovato. 6-6. Salian... No. Torino. Torino. Eh, si confondono con i colori. Li mettono anche insieme, attaccati. Sì, infatti. Empoli. Pezzella. Ex Parma. Questo è un che sbaglia i rigori che adesso, eh. Questo qua. è il tiratore fisso. Invece Nico González sbaglia i rigori. Che c'è la fantacalcio. Vi do il codice del Brescia. Tre giocatori del FISA. Tre giocatori del Modena. E abbiamo la schierata del Albino F e Alessandria. Continuiamo un 6-6. Terzo e il terzo e l'ultimo pacchetto per me. Dai. È già un doppione perché l'avevamo trovato prima nel primo pacchetto, mi sembra. Andragona per la Fiorentina. Poi c'è Beresinski dell'Empoli, anche per Napoli qui. Sì. Luisa Alberto. Eh, grazie, sai. Non ce l'avevamo. È l'otto, è l'otto chick. Lottus chick. Lottus chick, Luisa Alberto. Il doppio così. Il nostro capocannoniere. Sto segnando, ragazzi. Eh, 5 con il campionato, non è male. Bravo, Loftus. Bravo, bravo. Codice della Viola, della Fiorentina. Poi c'è la schierata del Brindisi e della Casertana. Poi tre giocatori del Sud Tirol e tre giocatori del Palermo. Oh, l'otto chick è l'Essaberto. Così proprio. Ultime due io e i due Fabi. voglio almeno due del Milan, eh. Dai, troviamoci. Beh, l'otto chick l'abbiamo fatto. Allora, il difensore. Sottovalutato. Mario Lui. Eh. Sottotitoli dai napoletani. È strano, subito il Bari, la schierata. Subito la schierata. Mirames così coperto. Teo Hernandes. Bello. Bello, bello. Quello. Le volevo due, ma non attaccati, ragazzi. Non ci credo. C'è, c'è, c'è. È Kier. È Kier. È Biondo. È Kier. È Kier. È Kier. È Simon Kier. Dai che c'è un terzo, dai che attacchiamo, attacchiamoci. No, bello. Sì. È il codice, pure del Milan. Non siamo milanisti, eh. No, non lo siamo. No. Siamo milanisti. Ragazzi, questo... Vai. Teo. È il triplo cosido del Milan. Teo, chi è nel codice? Beh, beh, beh. Tra i giocatori, aiutatemi, Pisa, no. Ecco, penso, penso. Proviamo. Scusateci, ragazzi, ma gli stemmi della serie B non li conosciamo tutti, tutti. Questo dovrebbe essere l'Eco, non lo so. La schierata Spal e Torres. E la schierata Pescala e Pineto. Beh. Beh, siamo andati a un sette pieno, ma io me li tengo qua. Difesa, centrocampo, ci manca l'attacco. Eh, Giro. Leo, vi ricordiamo che noi Leo ce l'abbiamo... Oh, non ci credo. Non ci credo. Olivier Giroud. Olivier Giroud. Olivier Giroud. Prima non avevamo quasi nessuno del Milan, in cinque carte. Le abbiamo chiamate. È vero. Cioè, l'AutoGiroud. Questo video facciamo chiamare anche Pioli. Andiamo avanti. No, troviamo anche Pioli dopo. Ce l'abbiamo già, eh, Pioli. Vabbè. Giroud. Llorente della Roma, consigli del Sassuolo, il portiere Posh. Posh. Questo è un grande difensore del Bologna. Codice del Bali. I Galletti. Poi c'è la Ferraltisalot. Guardate. Bershaw. E tre giocatori del Bershaw. E poi c'è la Juve Stabia e il Latina. Ultimi due pacchetti, dai, 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 dai. Guardate, così fanno subito al volo, eh. Siete voi che ci aiutate. No, non è del Milan, è del Genoa. È del Genoa. Vali, Genoa. Audero. Audero, Inter, secondo potere. Torino. No. No, è Bologna. Nuovo, Bologna. Cos'è? E-Sport. E-Sport. Ah, sono i semi femminili, mi sa, della Juve. Cioè, della Serie A. Sassuolo e Sassuolo. Cioè, della Milano, c'è la storia. E gli semi femminili, va bene. Poi c'è. Il codice. Vuoi tenere coperto? Eh, sotto l'ho visto un Elite. Dai. Vediamo chi troviamo. Ah, ok. Caruto, Virtus Francavilla, Touris e Sorrento Calcio. Ancora tre ne mancano, eh. Ah, no, due. Stemmi Cremonese e Cosenza. Stemmi Cremonese e Cosenza. e un 278 e si adierà questo no ma che forse se ne vada ultimo pacchetto del video da questo mario poi martin del genoa montipò poi il sassuolo il codice codice e poi ho visto vabbè togliendo il codice che sotto c'è un'elite non è fortissimo però comunque è sciurria del monza e poi c'è la salernitana ah no c'è un'altra cosa salernitana è paolo di bala l'abbiamo chiamato all'inizio all'inizio ci mancava di bala si è elite anche quello normale quell'elite l'abbiamo trovato abbiamo chiamato tre del milan li abbiamo trovati l'occasione di bala all'inizio diciamo che è andata abbastanza bene inserte pieno va bene bene va bene ragazzi da noi oggi è tutto e ci rivediamo alla prossima ciao ragazzi